ciao a tutti ragazzi eccoci anche oggi con un nuovo video e oggi voglio farvi degli aggiornamenti sulla legge coppa voglio aggiornarvi sulle ultime novità che ho scoperto novità che non arrivano assolutamente da youtube questo perché perché youtube a quanto mi riguarda non so quanto io faccia bene a fare questo video visto che già allora partiamo dall'inizio ho notato che nell'ultimo periodo youtube sta dando un sacco di valore ai canali grossi e un sacco di svalore ai canali piccoli nel senso che sta veramente spingendo sempre di più i canali che sono già grossi e nascondendo sempre di più i canali che sono piccoli ci ho fatto caso non tanto sul mio canale quanto sulla mia home page quando io apro la home di youtube generalmente fino a qualche settimana fa mi uscivano tutti i canali che appunto seguo di cui guardo i video eccetera e mi sono accorto che era da un po di tempo che avevano cominciato a uscirmi solamente canali grossi canali che addirittura io non mi ricordavo neanche dell'esistenza perché ho smesso di seguirli non guardo più i video di questi canali e quindi me ne ero dimenticato non mi comparivano più hanno cominciato a ricomparirmi a discapito appunto di quelli che invece seguivo prima di parlarne ovviamente ho aspettato ho cercato di guardare un attimo ma sono sempre più convinto purtroppo che sia veramente così e tra questi ovviamente non c'è nessun canale di giocattoli tutti i canali di giocattoli che io conoscevo che seguivo sono spariti dalla mia home page non so se è successo anche con voi quindi ho notato che c'è questa sorta di distinzione che sta facendo youtube almeno non è una cosa che youtube ha espressamente detto o che sta scritta da qualche parte ma è una cosa che a me pare di aver notato spero ovviamente di sbagliarmi però è la prima volta che noto una cosa del genere ho sentito una valanga di teorie complottiste tra virgolette in questi anni su youtube ma non mi ero mai realmente accorto di qualcosa di strano e invece ho visto proprio questa cosa anche perché poi andando a cercare quei canali appunto piccolini che guardavo io comunque dopo anche aver visto due tre video non mi venivano consigliati nella home ma continuavano a essermi consigliati canali più grossi ad esempio se adesso io vado ad aprire youtube lo faccio qui con voi giusto per fare la prova del 9 apro l'applicazione di youtube mi apre direttamente la home page e mi esce justin bieber mi esce un canale che non conosco the zac and j show non ho idea di cosa sia con un milione di visualizzazioni questo video poi mi esce un altro video da 520.000 visualizzazioni vabbè ok mi escono i video della rai perché adesso siamo in periodo sanremo e quindi quello può anche starci anche se a me di sanremo non me ne frega assolutamente nulla resina ma non resina nostra resina che tipo questo canale quanti iscritti a questo canale a 1,2 milioni di iscritti e se io vado avanti continuano così 2,9 milioni di visualizzazioni sono tutti video veramente grossi prima mi uscivano in base a quello che volevo io in base a quello che guardavo io questo mi fa ben pensare che purtroppo youtube stia veramente mettendo da parte un pochino i canali piccoli fatta tutta questa precisazione qui che comunque è una cosa che mi dà un po fastidio perché ovviamente anche noi ci diamo da fare come i canali grossi anzi forse abbiamo meno il culo parato dalle agenzie visto che siamo da soli mi sono accorto che anche sulla legge coppa youtube non sta facendo assolutamente niente ha fatto un sacco di allarmismo da settembre a gennaio ci ha spaventati tutti ci ha praticamente terrorizzati con minacce di multe e tutto quello che già sapete poi arriva il 6 di gennaio quando questa cosa appunto viene messa in atto e cosa cambia cambia che tutti gli youtuber stanno cercando di fare i furbetti questo è l'unico reale cambiamento che io ho visto in youtube da prima della legge coppa a dopo la legge coppa adesso ho detto tutti per generalizzare perché il 90% degli youtuber che fanno giocattoli ho visto che cercano di fare i furbetti ce ne sono veramente pochi che non lo stanno facendo e sono quelli che stanno praticamente morendo e mi dispiace perché purtroppo ho notato che si sono già trovati dei trucchetti per poter lasciare i commenti oppure per mantenere i video per adulti ma non farlo diciamo sgamare da youtube e tutte queste cose qua ma la cosa che più mi dà fastidio è il fatto che alcuni dicono ma finché youtube non riesce a beccare il mio video come per bambini io lo lascio per adulti ok da una parte vuoi fare il furbo e vuoi scamparla da quell'altra però ci sono tanto di clausole di youtube che dicono che la responsabilità è nostra e siamo noi a dover classificare i nostri video e questa praticamente è l'unica vera novità che c'è adesso l'unico vero aggiornamento il fastidio di youtuber corretti come me come nese time per fare un nome come haris chest per farne due che caricano video categorizzati per i bambini quelli che vanno fatti per i bambini per adulti quelli che vanno fatti per adulti guardando tutte le linee guida che ci sono state date quando invece gli altri cercano sempre di fare un po i furbetti e di aggirare le cose quindi in poche parole diciamo che è anche facile accorgersene perché se voi aprite i miei video delle lol le lol omg le aprite vi viene fuori il bellissimo banner con scritto scarica youtube kids e sotto ovviamente non potete scrivere i commenti perché io purtroppo seguendo le linee guida di youtube ho dovuto categorizzare quei video come per bambini anche se lo sapete io mi rivolgo principalmente ad un pubblico adulto o comunque in un modo adulto quando invece vedete che nei video delle lol potete commentare quel video non sarebbe commentabile non è giusto che quel video si possa commentare diciamo che quella persona che l'ha messo così semplicemente sta cercando di fare il furbetto perché youtube ad oggi non ha ancora detto i video per le lol sono per adulti quindi ve ne accorgete sicuramente anche voi di chi vuole fare il furbetto e di chi no a questo punto non so se iniziare a farlo anch'io non so più cosa pensare sinceramente la cosa mi infastidisce e non poco perché purtroppo come sapete gli onesti se la prendono sempre nel culo e disonesti ci passano davanti ed è una cosa che a me non piace anche perché faccio veramente fatica a diventare disonesto per avere qualche numero in più mi conoscete quattro anni e mezzo che sono qui ormai non posso mentirvi perché mi conoscete di conseguenza questo appunto è l'unico aggiornamento sulla legge coppa che vi posso dare un'altra cosa che mi fa molto ridere vedere i canali americani grossi veramente grossi che mantengono il loro standard per adulti nel senso che palesemente fanno video per bambini perché ad esempio ragazzi la barbie color reveal quella rosa che si mette in acqua si scioglie il colore si scopre che barbie abbiamo trovato è palesemente una cosa per bambini per quanto io possa farvi il video in un modo adulto quello rientra a tutti gli effetti nella categoria video per bambini ho visto però canali italiani e soprattutto americani mettere questo genere di prodotto come per adulti perché per prima cosa youtube non lo riconosce come tale ma youtube ha un algoritmo non ha una persona che guarda ogni singolo video e mette clic è per adulti per bambini e come seconda cosa loro dicono ma io mi rivolgo ad adulti se lo guardano i bambini non me ne frega niente e quindi io lo lascio per adulti diciamo che non sarebbe proprio così però a questo punto lasciamoli fare io spero solo che prima o dopo venga fatta un pochino di giustizia perché vedere che il mio canale per questo motivo e anche per il motivo di prima inizia un attimino a crollare vedere altri canali come appunto haris chest che stanno diventando un deserto perché non sa più come categorizzare i video mi dispiace veramente un sacco quando altri canali potrebbero adeguarsi invece fanno solo i furbi per concludere vi faccio solamente un esempio come sapete io avevo una rubrica che piaceva molto a voi e piaceva molto a me un format più che altro che erano le horror review che se vogliamo qualcuno mi ha anche un pochino copiato negli anni ma va bene così mi fa solo che piacere mi illusinga queste horror review erano ovviamente una cosa molto ironica lo sapete molto scherzosa per divertirci per scherzare un po ridere fare una cosa un po una pagliacciata ecco alla fine era una pagliacciata sono in stop io non ho ancora deciso se continuarle oppure no queste horror review perché so che vabbè a molti farebbe strapiacere se le continuassi a molti non fregherebbe niente però a me farbbe piacere continuarle ma non sono ancora riuscito a capire dove devo categorizzarle perché si utilizzo giocattoli ma non faccio storielle per bambini dall'altra parte però faccio tipo storielle con bambole ma in versione diciamo ironica quasi un po più tra virgolette horror non lo so quindi è tutto molto in stop però come vedete io metto in stop queste cose per correttezza nei confronti di quella che è la piattaforma che mi dà diciamo da lavorare che mi dà modo di poter creare contenuti dall'altra parte ci sono persone che al mio posto non si farebbero assolutamente scrupoli farebbero le horror review le piazzerebbero come per adulti e chi se ne frega tanto youtube non le trova io spero veramente che nel bene o nel male youtube cominci a mettere un po in riga tutti se servisse anche me per carità perché può essere che anch'io sbagli non lo nego ma che appunto questa cosa inizi ad essere una cosa giusta e corretta per tutti perché io sinceramente i furbetti non li sopporto più detto questo ragazzi ho parlato per un po mi sono un attimino sfogato volevo appunto dirvi queste cose perché ho letto che in giro scrivete tipo ah che bello ma il tuo video si può commentare perché il video di quell'altro non si può commentare persone mi sono venute a scrivere come mai che non posso commentare il tuo video delle lol quando il video di tizio posso commentarlo e quindi queste cose mi infastidiscono il motivo per cui potete commentare certi video e altri no è proprio questo i furbetti semplicemente questo e niente di più quindi ragazzi io spero di non avervi annoiato ci tenevo comunque a dirvi queste due cose perché questo canale l'ho creato io ma l'abbiamo creato praticamente insieme e quindi è giusto che le cose voi le sappiate quando le so anch'io se io so una cosa è giusto che la sapete anche voi non vi ho mai nascosto nulla non voglio iniziare a farlo adesso io spero che vi abbia chiarito un po le idee questo video sul perché alcuni possono commentare altri no perché ci sono queste differenze fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto e se avete già magari trovato anche voi qualcuno di queste cose di questi escamotage se avete visto che ci sono quelli che fanno i furbetti eccetera io adesso mi rilasso un attimo mi calmo 5 minuti e vado a registrarvi un altro paio di video così ricominciamo a pubblicare un po più spesso intanto vi saluto ragazzi vi mando un bacione e ci vediamo il prossimo video